E ora sì, ma soprattutto una giornata memorabile per l'Italia sportiva che alle Paralimpiadi di Rio trionfa con la T maiuscola, un trionfo che accomuna, creando un filo conduttore, il pugliese Luca Mazzone con Alex Zanardi e Vittorio Podestà. L'ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, infatti ha conquistato l'oro nella cronometro H5 prima dell'altro trionfo, firmato Podestà nella categoria H3, proprio lui che ha ispirato Zanardi a cimentarsi in questa categoria di ciclismo in seguito all'incidente che non ha scalfito il destino di Zanardi, tale da essere sempre considerato un campione che sia automobilismo, no? Idem per il campione pugliese apparentemente al capolinea della propria carriera da nuotatore, idem per il campione pugliese apparentemente al capolinea della propria carriera da nuotatore e quel loro sempre sfiorato ma mai raggiunto, quel loro però conquistato nella disciplina di handbike che ha premiato l'atleta terlizzese con il metallo più prezioso, un tempo che non ha lasciato spazio a rimpianti per i concorrenti, visto il netto predominio di Luca sin dall'avvio della corsa. E non è finita qui perché oggi tre atleti, tricolore, proveranno a trionfare nella staffetta coronando un sogno ormai già diventato realtà.